una cosa che mi piacerebbe chiederti a proposito di questo nel senso della creazione del denaro la cosa che mi interessava era proprio la a parte la correlazione io ho detto nella mia immensa ignoranza in materia che l'inflazione se per sé per me non esiste è una perdita di valore dell'euro quella che noi stiamo assistendo perché la parola inflazione è un po come se si volesse attribuire a un qualcosa che viene che cade da un po come uno tsunami un terremoto l'inflazione sembra una cosa che viene dall'estero poi senti la lagarde che dice non era previsibile noi non lo sapevamo non potevamo saperlo e invece secondo me è proprio una perdita mirata di potere d'acquisto interno soprattutto interno perché esternamente l'inflazione può essere anche un gioco che fa comodo a qualcuno e quanto l'immissione del denaro è veramente correlata all'inflazione e in che modo diciamo la creazione del denaro dal nulla può aumentare ancora di più o diminuirlo in questo strumento ce l'hanno veramente come controllo o è propagandistico come dicevo prima la parola inflazione tecnicamente rappresenta l'immissione di grandi quantità di denaro nel sistema inflare gonfiare c'è più immetti e che automaticamente meno vale il palloncino i soldi sono l'aria che soffio inflazione vuol dire soffiare aria nel palloncino mettere soldi nel sistema il movimento sui prezzi è una conseguenza è una conseguenza abbastanza necessaria se io emetto nel sistema soldi equivalenti ai beni e servizi che vengono prodotti cioè cresce la massa dei beni e servizi può crescere anche la massa dei soldi o comunque la velocità di circolazione che influisce anche sul parametro se io invece continuo a immettere soldi senza che a questo corrisponda una creazione di nuovi beni e di nuovi servizi perché questi soldi creati dalle banche centrali negli ultimi decenni al 99 per cento sono andati nel mondo della speculazione non nel mondo della produzione se io compro un titolo che vale 100 e siccome ho soldi all'infinito che mi arrivano dalle banche centrali lo compro anche se sto titolo non vale niente se tutti lo comprano col titolo da 100 va a 200 ma questo incremento di 100 è aria fritta non corrisponde a nessun bene reale nel mondo l'aumento invece dei prezzi dei beni e dei servizi non è necessariamente legato alla quantità di denaro che viene immessa nel sistema allora noi negli ultimi decenni abbiamo avuto montagne di soldi immesse dalle banche centrali nel sistema perché non abbiamo visto già dieci anni fa l'inflazione andare alle stelle in realtà c'è stata ma non l'abbiamo vista perché quello che è salito è il valore di quei titoli dei derivati della speculazione infatti i tecnici la chiamano asset inflation l'inflazione degli asset di natura finanziaria c'era solo che non i giornali non ne parlano come inflazione anzi se salgono se salgono se sale avvore degli asset tutti gli sparmiatori che hanno investito in titoli derivati sono felici se salgono i prezzi del pane e della benzina no ma i soldi messi nel sistema dalle banche centrali hanno generato quel tipo di inflazione e non quella dei beni a consumo da un paio d'anni a in questa parte le cose sono cambiate drasticamente il mondo della finanza è fermo anzi perde valore mentre hanno cominciato a salire i beni reali per due motivi uno tutti i nuovi soldi che non vengono investiti nel mondo della speculazione perché la gente ha paura di comprare con la robaccia finiscono per comprare case o beni di consumo ma soprattutto perché nel mondo delle materie prime quindi nel mondo di quelle cose che sono dietro la produzione di tutto il resto ci sono gli oligopoli oligopoli vuol dire che ci sono pochi soggetti che hanno un enorme potere di stabilire i prezzi di pricing power siccome sono pochi si mettono d'accordo tutto il mondo vuoi il coltan che serve per fare le batterie dei cellulari siamo in tre a controllarlo nel mondo e il prezzo è raddoppiato ci dispiace il ferro è raddoppiato tutte le materie prime hanno visto impennata dei prezzi che due o tre anni fa non si capiva per quale motivo normalmente i prezzi dei beni salgono quando sale la domanda se l'economia gira si surriscalda tutti vogliono comprare cose allora salgono i prezzi ma lì l'economia era ferma i prezzi salivano perché perché poche persone che hanno il potere di muovere i prezzi hanno deciso di far alzare i prezzi a me fanno ridere le banche centrali che per dal 2008 che sono passati 15 anni dopo la crisi del 2008 noi abbiamo avuto la deflazione cioè un'inflazione al di sotto del 2% che era prima non volevano che salisse troppo al di sopra del 2% poi si sono detti disperati poverini perché non riuscivano a portare l'inflazione da 0, sopra il 2% basta mettere un soldino in tasca un consumatore e l'inflazione sale però sapevano perfettamente che le migliaia di miliardi di soldi che mettevano col quantitative easing non andavano nelle tasche dei consumatori andavano nel mondo della speculazione e hanno sostenuto la bolla speculativa per tutto questo tempo nel frattempo la crisi economica ha permesso grazie anche ai parametri di mastri che grazie a governi compiacenti a quel sistema di trasformare soldi di carta in beni reali i servizi pubblici nell'arco di un paio di decenni erano tutti pubblici sono diventati tutti privati perché il potere compra servizi pubblici essenziali perché tu puoi essere disoccupato povero in canna ma se ti devi curare se ti devi riscaldare se hai bisogno di energia ti spremi il sangue compri queste cose a noi sentiamo dire sempre la solita quando succedono queste crisi finanziarie questi fallimenti delle banche o mettiamo tra virgolette o come dici tu questi non fallimenti delle banche un grandissimo problema è il panico generalizzato che si riflette sulla gente sui correntisti e vanno a ritirare soldi e quello che succede è che non ci sono i soldi dentro le banche questo per quel meccanismo io credo si chiama riserva frazionaria no giusto se se tu all'interno se lo sbaglio è stata abolita proprio non hanno più se lo sbaglio dopo l'ultima crisi hanno tolto anche gli ultimi obblighi di riserva è vero io pensavo che in Europa ci fosse ancora quello del 99 a 1 cos'era su 100 euro già prima era 1 per cento comunque irrisorie negli stati uniti non c'è questo comunque negli stati uniti è stata tolta io mi chiedo com'è possibile che nessuno ne parli di questa cosa cioè sentiamo articoli di giornale noi escono se uno fa una ricerca in questa ultima settimana ci sono migliaia di articoli ma di tutte le di tutte le provenienze più economisti non economisti esperti super esperti eccetera eccetera e nessuno parla del fatto che non ci sono i contanti del perché non ci sono i contanti dentro cioè la gente va a ritirare la banca dice no non ci sono se ne parlasse apertamente andremmo a ritirare tutti i nostri sogni e siccome il sistema del cinema delle radio delle televisioni dei giornali è controllato dalle stesse persone che controllano e va anche facile volevo che tu mi spiegassi proprio tecnicamente che come si comportano le banche io arrivo in banca metto 100 euro e loro 99 euro di questi 100 praticamente non hanno l'obbligo di averli lì dentro li possono prestare o li possono investire la gestione della riserva almeno fino a quando c'ero io funzionava così tu banca hai l'obbligo di depositare presso la banca centrale la famosa riserva che è una percentuale della media dei depositi che ricevi da tutti i tuoi correntisti nel mese la media deve essere pari a quella percentuale di tutti i depositi quindi la puoi anche movimentare un po oggi mi serve più liquidità te ne deposito un po di meno domani ce te ne deposito un po di più nel mese la media deve stare al di sopra di quel minimo che è un minimo irrisorio nel senso che basta un po di panico e chiaramente non non hai soldi a sufficienza un per cento sì ora se le banche mi scappa da ridere se le banche usassero i soldi dei depositanti per finanziare la creazione di ricchezza vera cioè se adesso gli soldi alle imprese le famiglie che si devono comprare casa che comunque fanno l'investimento quindi generano l'aumento di una ricchezza immobiliare ma non ci sarebbero mai problemi nel senso che la percentuale dei crediti che non viene restituita sarebbe molto bassa siccome la gran parte dei soldi finisce nel mondo della speculazione c'è il famoso moral hazard fate un po quello che vi pare tanto vi proteggiamo noi banche centrali